bene bentornati sul mio canale e continuiamo i nostri tutorial su UE4 il nostro corso orientato all'architettura se vi ricordate l'ultima volta abbiamo fatto l'esempio di come appare il nostro progetto di un interno modificando un po' i parametri di Lightmass che vanno ad incidere sulla GI ma abbiamo anche visto che vedete qui le ombre proiettate qua sopra su queste superfici che hanno e ne abbiamo già parlato in precedenza una size della Lightmap molto molto bassa ovviamente è scadente il risultato lo si può vedere anche nei piccoli particolari vedete qui sul telaio fisso vedete qui l'ombra appena bozzata a terra quindi dobbiamo fare in questa parte faremo solo un controllo delle size delle Lightmap abbiamo visto che ordinare un progetto in UE4 è una cosa importantissima e quindi abbiamo fatto una serie di layer e poi ci siamo stati ben attenti all'interno di 3D Studio Max a rinominare in un certo modo i nostri componenti dell'abitazione e quindi mettiamoci come già abbiamo visto se noi spuntiamo l'IT qui e andiamo in optimization view mode ci mettiamo su Lightmap density vedete già già ne abbiamo parlato andatevi a rivedere la qualche lezione precedente magari linko la scheda in modo che potete cliccarci sopra vedete che tutto questo blu vedete che questo qua lo legge come rosso quindi questo qua noi possiamo anche queste parti qua in rosso le possiamo liberamente rimanere come le vediamo ma dobbiamo un po' modificare tutte le size delle altre mappe sappiamo che in una scala di colore che va tra il blu e il rosso in blu troviamo le size delle Lightmap che le possiamo vedere anche a schermo vedete qua è molto ampia su questo pavimento qua già si riesce ad infittire un poco ma è comunque molto scarsa e quindi andiamo a fare questo tipo di operazione andiamo nella nostra house e iniziamo ad esempio del battiscopa battiscopa che anche questi vedete non hanno una buona size quindi selezioniamo tutti i battiscopa e possiamo agire sappiamo sostanzialmente per cambiare contemporaneamente tutte le parti possiamo agire essenzialmente in due modi o modificando in overlapping le stesse quindi sotto detail possiamo trovare il parametro lighting e qua possiamo spuntare magari mettere ad esempio 256 vediamo che succede ecco adesso già per quanto riguarda alcuni elementi la cosa è molto migliorata però essendo questi ancora dei pezzi in lunghezza molto sviluppati qua se portiamo a 5 e 12 vedete che già la cosa sembra andare nettamente meglio poi selezioniamo i muri i muri vediamo un poco selezioniamo tutti i muri ecco qua questa parte qua e in questo caso facciamo poi dopo vi farò vedere un altro modo per cambiare contemporaneamente tutti gli oggetti andiamo in overriden e mettiamo per i muri per i muri ad esempio 256 vediamo che succede vedete che è aumentata la size della light map però è ancora questo colore che non va ancora fin quando troviamo un colore che si avvicina al rosso e che va nell'arancio ci può stare ancora bene però diciamo che qua ha bisogno ancora di essere migliorata proviamo 5 e 12 in 5 e 12 diciamo che può andare può andare bene anche se probabilmente questa parte di muro è collegata come questa parte qui all'esterno infatti e quindi forse per questo muro qua e per questo muro qua io opterei per una override di 1024 ok perché abbiamo visto che 512 visto che andiamo per multipli ancora si va nel verdino che può essere ancora accettabile però non è la situazione ottimana e quindi possiamo mettere a 1024 in questo caso poi passiamo dai muri agli orizzontamenti ne sono 4 5 li selezioniamo e in questo caso parto subito col 1024 perché so che è abbastanza ampio come vedete e non non è ancora sufficiente vedete cioè va bene si per diciamo in genere questo parametro 1024 io me lo posso anche tenere perché va bene però per superfici di questa dimensione un 2048 sarebbero sarebbe stato l'ideale beh teniamoci 2048 poi andiamo sulle windows che se non erro sono le ultime rimaste le selezioniamo e in questo caso andiamo a mettere ad esempio proviamo con un 256 vediamo che succede io penso che possa possa andare benissimo selezioniamo i vetri magari portiamoli a 512 sì però essendo giustamente un lavoro in trasparenza quindi 256 va bene anche per la parte dei vetri e vabbè poi c'è il vano della porta qui che ovviamente ha bisogno di essere magari aumentata come size adesso se noi ripetiamo quell'operazione vedremo dei netti miglioramenti vabbè facciamo questa operazione rimettiamoci nella modalità lit e clicchiamo su build io in genere utilizzo il filtro medium in questa fase poi verso fine del progetto uno può forzare la risoluzione production clicco su build facendo questa questa operazione io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima alla prossima al prossimo video corso dove vedremo appunto le il file completo con la ricostruzione delle luci già fatte qualora vi sia piaciuto il video lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e io vi aspetto alla prossima video lezione ciao